Salve a tutti ragazzi, questo è un nuovo video, oggi non c'è il Gabibbo, ed è proprio lui, oggi c'è Bonny e Foxy, lui è Foxy, Giuseppe fa Bonny e io Foxy Cioè, allora, non è così, come sempre, Gabibbo e Poverissima sono stati presi sulla TikTok, invece stavolta noi siamo stati presi su Amazon, però, siamo molto più belli Quindi, ora mettiamo pronto Mi ha detto frangia di non e giuse di non Allora, l'altra volta, il Gabibbo e Poverissima sono stati picchiati la Francia Ah, sì Quindi E poi hanno fatto un video che è durato di più di undici minuti E ora saranno per due giorni senza mangiare Spero, senza mangiare Ma state tranquilli che li porteremo noi da mangiare Sì, diamo la pizza Il signor Foxy Piramone Supremo Si prega che lui dovrebbe fare i rumori Dovrebbe tipo fare la canzoncina di Foxy Haar, 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 haar Ma quella è tipo, quella è di Freddy Haar, haar Quella cosa si faceva Dan, no, era tipo Dan, 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 dan No, bravo, bravo, bravo Oppure Oppure qualcosa faccio la yard Beh, possiamo iniziare ora Siamo proprio fatati No Siume te Purtroppo non c'è Un controller coniglio Se no me lo stavo rimasso E intanto Sono con la mia chitarra Rado, vaja, hollete il Purtroppo non c'èo una ski Sera van dalvín Èg jeffola, skinnilegun lupa Ero un pollo. Ero un pollo. Sto mi a troppa una volta. Sommi. 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 Alla prossima, l'altra prossima! La Borgna troppa fotti! Rattella, voglio il foxo è il foxo, il golfo. Rai e aro a fatti! Rapporto il pirata! Come vi fari! Lontó cari Robi! Brutto pezzo di mamma. Ok, pezzo di mamma. Ma io credo che sia un po' esagerato. A proposito, come si gioca? Vemmi nico, sono un pirata. Sono morto, Bonnie, sono morto. Non è colpa mia. Bonnie, sai che c'è un brawler che si chiama Bonnie, come te? Mi sa che in questo account, purtroppo, non ce l'ho. Siamo proprio nello stesso account di Paperissima e Gabib. Spremmo se costa Maxinu í estu. Meio, vistu að þetta námosu supersonar. Við sona ekki að kán keppu sem að prófara. ni Akki. Iku voje ma tous. Zuna giddete un account over me Φ tanti. Meio, dash he Aki dio. Ci saranno di nuovo Paperissima e Gabibbo Ci saranno un po' Messi male Perché sono stati tenuti Senza cibo per un bel gioco Ah ah Ecco Gabibbo Mi sente malissimo Ci sarà un altro gioco Dove ritorneranno Paperissima e Gabibbo E giocheranno un altro gioco Registrerò Oggi Francia ha detto di registrare un video Ma se vuole Noi possiamo registrare anche i tuoi video Ma se vogliamo Aspetta mi metto pocio Let's gogo Non so perché Ma tu sei un pro player Ma ci appoggio ancora Anche quattordi Vabbè Francia continua tu il video Io stacco Ciao Arr Comunque il nostro amico Bonnie Està staccato No so Quindi iniziamo Arr Arr Consimente pronto Ecco Acco raga scusate comunque un attimo ok raccomi ci sono sono tutti offline non so perché ma devo abbandonare la squadra andiamo mi sono solo mi pare con questo brawler riasco a vincere le partite allora ho vinto le partite questa la diamo per vinta è che la vincere a me E' un strato, come è usato super Dai Rai, ma vare arre Rai Rai, ma vare arre 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 Scusate, ci sono Quindi il video dovrà durare 11 minuti Una cosa del genere Perché sennò Francia mi picchierà E non voglio finire Un guai Allora siamo a 9 minuti Quindi 11 minuti Dobbiamo staccare Siamo a 10 minuti Siamo a 10 minuti Anche E' un po' Siamo a 10 minuti Siamo a 10 minuti Anche Siamo a 10 minuti Anche Siamo a 10 minuti giocorta guarda gornite qua a loro allora lasciamo un po di minuti siamo a 11 minuti quindi facciamo l'ultima partitozza facciamo l'ultima partitozza quindi è l'ultima partitozza ci siamo un po di minuti ok raga io stacco il video ci vediamo domani saranno allora allora segnalate questa tizia questa qua io lo segnalo ok conferma se segnalata comunque ci vediamo in un prossimo video ciao